Nel caso voleste acquistare un account modato di GTA V oppure aveste bisogno di soldi per la versione PC o foste intenzionati all'acquisto di Shark Karts oppure vi interessassero semplicemente altri giochi scontati trovate i link di digitizzare in descrizione Allora per cominciare io questa cosa non la sapevo, mi è stata detta, ho detto ma andiamo a vedere mi è semplicemente stato detto prova a sparare con il carro armato sui pali della luce e ho detto ma cosa sarà, cosa succederà ebbene andiamo a vedere cosa succede sparando con il carro armato sui pali della luce Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a vedere altre delle stronzatone che il mondo di GTA V ha ad offrirci Iniziamo subito da una cosa che vabbè dici siamo in un gioco però manco tanto eh cioè praticamente tu dici vabbè siamo in un gioco poi in basso a destra ci si è scritto ma manco tanto in realtà tra parentesi perché in pratica quando siete dentro al bunker voi vedete il tizio dell'officina no voi andate e c'è il tizio lì che vi modifica i veicoli insomma lavora nell'officina va bene quindi voi potete modificare le cose potete farvi modificare da lui tutte le cose di fatto però se entrate nel centro operativo mobile c'è lo stesso tizio che c'era fuori ma questo non è un problema perché voi dite vabbè quando entrate voi potrebbe entrare pure lui nel centro operativo mobile e giustamente però perché se il centro operativo mobile è fuori dal bunker lontano eh il tizio c'è dentro il centro operativo mobile ma se voi andate nel bunker c'è anche nel bunker cioè io capisco tutto ma falli un attimo diversi non fare che sia la stessa persona cioè io ho capito che è un gioco questo e tutto però tu mi metti la stessa persona nell'officina del bunker e nell'officina del centro operativo mobile scusa allora questa cosa veramente è capitato a tanti giocatori perché sto vedendo un casino di screenshot online che venga fuori il colore cromato nel rimorchio antiaereo ok e fin qui dici vabbè ma che problema c'è a mettere il colore cromato nel rimorchio antiaereo e sì sono d'accordo non c'è alcun tipo di problema se non fosse per il fatto che quando vai a metterci il colore cromato ti dice che verrà sbloccato completando altre corse nella stessa classe del rimorchio antiaereo cioè che classe è un rimorchio antiaereo scusami allora c'è un problema che affliggeva gt online tempo fa no però adesso è stato risolto con la maggior parte delle cose in pratica quando tu entri nel garage non è che il garage è posizionato in quel punto tu vieni teletrasportato all'interno del garage ma il garage in realtà si trova sotto la mappa e la maggior parte dei garage tipo quello dell'appartamento di lusso all'eclipse tower si trova più o meno al centro della città ok al centro di los santos quindi tu fisicamente ti trovi al centro di los santos ma è posizionato in modo che tu veda che in realtà stai all'appartamento e ok questo va bene è stata messa a posto questa cosa però nel bunker se tu avvii un'attività dal bunker oppure a volte quando vi viene la visuale dall'alto no avete presente quando viene la dissolvenza dall'alto ok quando succede quella cosa molto spesso con il bunker ti mostra la visuale al porto di los santos perché si vede che il bunker è posizionato sotto la mappa al porto di los santos e voi direte vabbè è un problemino no non è un problemino da niente perché perché se tu non puoi tu metti tu metti gli interni in un altro punto della mappa ok però uno quando fa una dissolvenza avvia un'attività o qualcosa ti mostra che in realtà è in un altro punto della mappa e ora vabbè non mina il gameplay non da nessun problema questa cosa però è bruttissimo da vedere ed è una cosa di base di qualsiasi videogioco cioè quando c'era questo problema agli inizi già era grave ma adesso avendolo fatto dopo quasi quattro anni dall'uscita del gioco e dopo aver aggiunto i bunker che sono venuti fuori con un aggiornamento molto importante cioè aggiungere un bug che cosa costava fare come per i garage come cazzo ha fatto a non pensarci e dire ma forse il bunker essendo posizionato sotto al porto di los santos fisicamente forse dobbiamo spostarla alla visuale quando uno entra in un'attività forse non dobbiamo farla partire direttamente da sopra in cielo no invece no ma veramente cioè non so a volte cosa hanno per la testa i programmatori di rockstar oppure chi studia ste cose i designer che cazzo ne so allora su gt online hanno aggiunto vari tipi di caricatori adesso no e hanno aggiunto soprattutto le munizioni esplosive per il fucile da cecchino pesante e uno dice va bene che problema c'è ok è sbilanciato tutto ma in sé le munizioni che problema hanno beh il problema è che bisogna andare nel centro operativo mobile ogni volta per ricaricarle e va bene era come tempo fa quando bisognava andare all'ammunation per ricaricarsi le munizioni oppure avviare un'attività il problema è che ora tu devi per forza andare nel centro operativo mobile per ricaricare le munizioni che è una cosa fastidiosissima perché io vorrei perlomeno non all'ammunation non dalmeno interazione ma magari prima di avviare un'attività magari me le fai acquistare magari ma non è nemmeno l'ultimo dei problemi il problema è che se tu lavori per te stesso hai la tua organizzazione puoi chiamarlo il centro operativo mobile e poi ricaricare le munizioni se lavori per qualcun altro no non puoi chiamarlo il centro operativo mobile e allora io se lavoro per qualcun altro sto facendo magari un incarico mi servono i proiettili esplosivi come cazzo me li ricarico non posso ricaricarmeli non posso ricaricarmeli perché se lavoro per qualcun altro non si può fare ma poi chi ha avuto la brillante idea di dire va non li rendiamo nemmeno acquistabili non dalmeno interazione non dall'ammunation perché le modifiche alle armi non sono più dall'ammunation no neanche dall'attività e uno dice vabbè perché uno potrebbe avviare l'attività e prendersela in qualunque momento in primo e voi dite non lo può fare in questo modo va bene ma chi ha avuto la brillante idea di dire se lavori per qualcun altro non puoi chiamare il tuo centro operativo mobile ma che cazzo di senso ha perché cioè io magari voglio comprarmi le munizioni no devo uscire e poi posso richiamare il centro operativo mobile allora già abbiamo parlato del carro armato in questo episodio ok il carro armato però ha anche un altro problema che condivide anche con altre cose nel gioco è un problema di regolazione questa volta ok allora il problema è che quando sparate con il carro armato molto in alto comunque quando sparate in determinate posizioni il carro armato magari ha la punta rivolta verso il cielo ma non spara dove dovrebbe essere rivolta la punta cioè spara molto più in basso ma io dico cioè in un gioco come GTA perché ci sono questi problemi di regolazione così stupidi cioè perché se io sparo in un se io punto la canna in un punto anzi mi spara in un altro cioè perché non è che poteva essere regolato meglio che io punto in un punto e la canna sta puntando veramente in quel punto ho detto punto 27 volte però insomma avete capito il concetto cioè è una cosa così semplice no 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 una cosa molto carina e utile che è stata aggiunta ai nuovi veicoli militari con questo aggiornamento è il fatto che si possano aggiungere le mine nei veicoli ok nella pc nella tampa qualsiasi nuovo veicolo militare ok ma questa cosa dite vabbè molto buona giustamente è molto buona questa cosa il problema è qual è il problema il problema è che il clacson ha lo stesso tasto della mina allora quindi uno dice vabbè ti permetterà di premere il clacson in qualche modo oppure se tu stai per mettere la mina magari ti dice eh stai attento perché se hai anche le mine non puoi mettere clacson e mine insieme magari ti avvisa e ti dice guarda stai buttando soldi nooo tu puoi mettere un clacson da quanto vuoi da decine di migliaia di dollari oppure puoi mettere la mina che vi ricordo mettere le mine costa 100.000 dollari quasi eh potete fare tutte le due cose ma in nessuna delle due ti avvisa cioè se tu hai il clacson e metti le mine no senza problemi però poi non lo puoi più usare il clacson ma non finisce nemmeno qui perché un altro problema delle mine che questa volta non è un problema però è una cosa sempre comunque illogica allora sappiamo che la maggior parte delle cose in questo aggiornamento la maggior parte delle armi sono limitate no ok per esempio la batteria missilistica della pc oppure che ne so il mortaio della tampa qualsiasi cosa del nuovo aggiornamento è limitata quasi tutte le armi del nuovo aggiornamento sono limitate però perché allora le mine sono illimitate che sono anche più grosse delle granate del mortaio e quello è il fatto no però no le mine sono illimitate cioè per carità hai il limite di esplosivi però le puoi continuare a piazzare all'infinito cioè le mine sono molto più grosse bene ragazzi direi che per questo video è tutto vi ringrazio per avermi seguito finora e vi ringrazio come al solito per tutte le segnalazioni che mi arrivano nei commenti per cose di questo tipo nel caso non conosceste altro non aiuto sempre il gradito sapemi bene noi ci rivediamo alla prossima iscriviti al canale